ciao a tutti ragazzi sono americo brunetti benvenuti a la forza questo è il primo di vari video in cui andrò a descrivere prima a livello teorico e poi nel dettaglio anche con alcune alcuni focus di pratica quella che è la logica dei punti di contatto in questo video guardiamo quelli che sono gli aspetti principali aspetti anche teorici quindi le giustificazioni anche dal punto di vista neurale e fisiologico di quello che è uno strumento cioè la logica dei punti di contatto ma prima di partire con una descrizione teorica voglio darvi in modo chiaro un'idea dei risultati che sono ottenibili attraverso questa logica di allenamento nei prossimi video nelle prossime immagini vedrete alcune scene di preparazione di agonisti di utilizzo della logica dei punti di contatto in quello che è l'apprendimento di un movimento di un movimento più o meno complesso di un movimento fondamentale come lo squat la panca lo stacco e di un movimento che invece può essere semplicemente di costruzione muscolare quindi magari croci alzate laterali quindi esercizi dal livello motorio più semplice procediamo allora ragazzi parlando di risultati vi espongo la storia di Mattia Zanutto che adesso molti di voi già conoscono perché si è affermato a livello internazionale nel natural bodybuilding agonistico qua lo vediamo alla competizione che precedeva il periodo in cui iniziava a collaborare con me vediamo delle buone masse muscolari sicuramente una buona linea viene da vari anni di ginnastica artistica e quello che però è particolarmente interessante è come si è evoluto un fisico già piuttosto predisposto questo è Mattia Zanutto nel 2018 in preparazione ai campionati del mondo di natural bodybuilding in cui è riuscito a ottenere il podio in terza posizione nella categoria di peso al di sotto dei 68 kg adesso vi mostro un altro paio di foto qua lo vediamo in una posa frontale vedete una qualità muscolare estrema sottolineo che Mattia ha ottenuto una padronanza del proprio corpo eccezionale ed è potremmo dire a tutti gli effetti il maggiore interprete è un maestro nell'applicare la logica dei punti di contatto vediamo anche una posa posteriore ora qui vediamo Mattia impegnato nell'esecuzione delle alzate laterali alzate laterali con cheating esercizio che nella sua routine qui era sempre in preparazione ai campionati del mondo era preceduto da un'apposita attivazione con logica dei punti di contatto quindi prima si faceva un lavoro con i punti di contatto dopodiché ci si dava a un'esecuzione più libera con il cheating quello che mi preme mostrare oltre alla quantità di muscoli che si può raggiungere con una logica di questo tipo è soprattutto la qualità, la densità muscolare a cui porta questa metodologia qui ora lo vediamo durante una routine di pose ricordo che Mattia è un agonista di livello internazionale per cui quello che state vedendo sicuramente è qualcosa di particolarmente avanzato e particolarmente anche ricercato nel tempo la cosa però molto bella dei punti di contatto è proprio la capacità di adattarsi al singolo soggetto quindi non semplicemente il super campione può giovare di questa logica, di questa strategia, di questo strumento ma anche un, anzi in certi casi soprattutto un principiante può avere grandissimi vantaggi in termini di apprendimento motorio per quanto riguarda invece la prestazione, la logica dei punti di contatto dimostra in questo caso la sua efficacia con una maggiore sicurezza, qua vediamo un Emilio Gotti Cometti giocare letteralmente con 260 kg di stacco da terra e successivamente una Anna Manenti che svolge due ripetizioni con 177 kg di stacco da terra ecco la memoria di questo movimento, la capacità di imprimere questo tipo di forza al bilanciere risentono sicuramente di un'impostazione lunga, di un'impostazione precisa e della memorizzazione appunto grazie alla logica dei punti di contatto parlando dell'applicazione della logica dei punti di contatto in un contesto non necessariamente agonistico ma di impostazione tecnica di un esercizio fondamentale, impostazione tecnica di base possiamo guardare questo video in cui abbiamo Ivan alla seconda seduta tecnica pratica con me che esegue uno squat con discesa lenta e salita lenta si noti il controllo, si noti la compattezza del corpo, si noti la ricerca della stabilità e dell'utilizzo del corpo come unica entità e non la ricerca dei glutei, dei quadricipiti, dei femorali, dell'uso delle gambe qua Ivan riesce a focalizzarsi su quello che è il lavoro del corpo in maniera globale in maniera non a compartimenti stagni e grazie a questa impostazione, grazie a questo focus il movimento è più facilmente comprensibile da parte dell'allievo e memorizzabile e sviluppabile nel tempo Che cos'è quindi la logica dei punti di contatto? Beh la logica dei punti di contatto prima di tutto è uno strumento di apprendimento motorio ed è uno strumento che una volta che un allenatore riesce a padroneggiare permette di insegnare molto più velocemente dei movimenti assolutamente fisiologici dei movimenti assolutamente costruiti sulla persona e invece una volta che l'atleta riesce a interiorizzare questo strumento beh certamente può produrre dei movimenti, può svolgere degli esercizi con i pesi assolutamente calati sulla sua persona quindi è anche in grado di evolvere i movimenti nel tempo è anche in grado di personalizzare in autonomia il movimento di un esercizio svolto con i pesi Nella pratica in cosa consiste? Beh partiamo da un'analisi di quello che è stato l'approccio alla tecnica in tutti questi anni di sapere e di allenamento con i pesi Che cosa vuole la prassi? Qual è l'approccio solito? L'approccio solito è quello di ok voglio costruire un muscolo, voglio svolgere un esercizio con un obiettivo di ipertrofia che cosa faccio? Cerco di isolare il muscolo, cerco di andare a stimolare il muscolo con degli esercizi che mirano a uno stimolo diretto della muscolatura La logica dei punti di contatto si pone in contrasto con questo concetto perché? Fondamentalmente perché il corpo non è un insieme di tanti piccoli muscoli presi messi uno insieme all'altro e alla fine ecco il corpo umano Il nostro corpo è un sistema complesso e articolato di parti sinergiche quindi ogni muscolo comunica con l'altro e proprio per questo il focus della logica dei punti di contatto vuole che l'atleta non si concentri a sentire il lavoro muscolare a isolare il muscolo, a fare lavorare meno tutti gli stabilizzatori tutti i muscoli di contorno ma anzi riesca ad integrare il singolo muscolo all'interno di un'orchestra muscolare sinergica che quindi va a creare un movimento sicuro, fisiologico e assolutamente sostenibile nel tempo Il secondo grande punto su cui fa leva la logica dei punti di contatto è la capacità del nostro sistema nervoso non tanto di ragionare in termini muscolari ma ragionare in termini di obiettivo motorio Cosa significa? Significa che noi per definizione come esseri umani non abbiamo la capacità di scelta riguardo al muscolo da utilizzare in un determinato esercizio Il nostro sistema nervoso ragiona per volontà nel caso di allenamento con i pesi e la nostra volontà non passa dal ok scelgo di attivare quel muscolo ma passa da un obiettivo motorio quindi il nostro sistema nervoso ragiona devo compiere quell'esercizio devo spostare quel peso da un punto A a un punto B bene, di conseguenza in automatico in base a quello che ho appreso in anni di allenamento in tecnica di focus su determinate parti dell'allenamento sceglierò in automatico quale muscolo attivare Ecco, la logica dei punti di contatto si basa su questo fondamento proprio perché data l'impossibilità da parte di un essere umano di scegliere il muscolo che si va ad utilizzare durante un esercizio beh, chiaramente per massimizzare l'effetto ipertrofico e per massimizzare quello che è l'effetto globale dell'allenamento è necessario intendere il sistema nervoso come una centralina che non comanda una piccola parte ma comanda un complesso di muscoli Il terzo fondamento su cui si basa la logica dei punti di contatto è di natura concettuale non vi è alcun motivo per pensare che la percezione di lavoro su un distretto muscolare o su un particolare fascio di un muscolo sia correlata a una sua attivazione vi faccio questo esempio quando noi portiamo un muscolo in massimo accorciamento o massimo allungamento abbiamo una percezione di fastidio di lavoro una percezione di finta attivazione che potrebbe, molto spesso accade portarci a svolgere degli esercizi con un ROM che consentono al muscolo di lavorare in massimo accorciamento e massimo allungamento ecco, la sensazione di lavoro che deriva da un esercizio che pone un muscolo in massimo allungamento e massimo accorciamento è assolutamente finta il segnale che viene mandato al corpo da parte dei recettori di allungamento e accorciamento muscolare è un semplice allarme non ha nulla a che vedere con una futura ipertrofia e con una reale attivazione del 100% delle fibre di questo muscolo la logica dei punti di contatto è quindi uno strumento a disposizione dell'atleta e dell'allenatore che ha l'obiettivo di spostare il focus da quello che accade all'interno del corpo del soggetto da quello che accade in termini di percezione singola e segmentata del muscolo all'esterno come l'intero corpo come sistema integrato si relaziona al mondo esterno all'interno di questo video abbiamo visto una prima infarinatura dei punti di contatto e ne vedremo un'applicazione pratica nelle prossime puntate io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima